Grazie a tutti. I presidi degli sindacati di categoria di base, ma non soltanto loro, ma anche di tantissimi cittadini dipendenti che chiedono giustizia, chiedono di apportare qualche modifica alla manovra finanziaria non definita e equa per tutta la popolazione italiana. Affronteremo questo argomento con due ospiti d'eccezione dal punto di vista dei cittadini, della realtà locali, sia per quanto riguarda il commercio che per quanto riguarda anche i pensionati. Lo faremo con il presidente della ConfCommercio, Vincenzo Palombo, e con il segretario generale del SPI CGL Comprensorio Civitavecchia, Eraldo Riccobello. Buonasera. Partiamo immediatamente dalla situazione della crisi economica. Già da diverso tempo è stato detto che qui a Civitavecchia, così come nel resto d'Italia, molti commercianti, cittadini, stanno soffrendo la crisi economica, molti negozi stanno chiudendo. E l'area natalizia, che generalmente dovrebbe portare un sospiro di sollievo a tutti questi commercianti, in realtà quest'anno non sembra farlo. La situazione. Allora, come ha anticipato giustamente lei, l'area natalizia per il momento ancora non sta dando i suoi frutti e quindi non si sta respirando quest'aria. Ho i dati proprio di un sondaggio fatto poche ore fa, prima di venire qui in trasmissione da lei, e direi che il dato comune è quello di vivere fino a questo momento il mese di dicembre come uno qualsiasi degli altri mesi dell'anno. Il che significa evidentemente un grande problema perché di solito il periodo natalizio e quindi il mese di dicembre è visto anche come un periodo di maggiori flussi di clienti e quindi di lavoro, per cui con il mese di dicembre si rimette un pochino in sesto quello che è tutto il bilancio dell'anno appena trascorso. È un anno di crisi, veniamo da anni ormai di crisi. Il problema secondo me in questo momento è legato a un duplice aspetto, la crisi che stiamo vivendo come ho detto prima da diverso tempo, ma anche l'incertezza. Secondo me il fatto che siamo ancora in una fase embrionale della manovra che ha dato alcune indicazioni e quindi indicazioni di grandi sacrifici, ma non ha ancora ben determinato quali siano sostanzialmente questi sacrifici e per quali categorie di cittadini soprattutto, lascia ovviamente in difficoltà un po' tutti, sia chi non ha la disponibilità già da adesso di spendere per gli acquisti natalizi e per quello che viene ritenuto superfluo, ma anche chi in previsione potrebbe avere la possibilità di spendere qualcosa è piuttosto prudente e quindi ha un atteggiamento prudenziale nei confronti delle spese perché ovviamente non sa a che cosa andrà incontro. Se poi teniamo in considerazione dati ufficiali nazionali che riportano come circa l'80% delle tredicesime che di solito venivano utilizzate ovviamente come un flusso maggiore per le famiglie proprio per dare sfogo a questi che potevano essere gli acquisti natalizi, i regali piuttosto che altre spese definibili superfluo e ora siamo nella condizione in cui circa l'80% se non ricordo male i dati davano questa indicazione, l'80% delle tredicesime verrà consumato, verrà comunque speso per rimettere a posto dei debiti già pregressi, per evitare nuovi indebitamenti, per pagare rate di mutuo e quindi è chiaro che se togliamo la liquidità alla stragrande maggioranza della cittadinanza è anche chiaro che diventa poi difficile avere dei risvolti positivi nell'ambito del commercio. Ecco, meno liquidità, quindi meno regali di Natale o comunque meno denaro da spendere per i regali di Natale, negativo per il commercio anche locale che sono ricordiamolo comuni cittadini anche loro seppur imprenditori che non riusciranno magari a far fronte alle spese, abbiamo ricordato diversi mesi fa molte imprese locali qui a Civitavecchia hanno dovuto chiudere le saracinesche perché non in grado di far fronte ai debiti o comunque alle pesanti spese da dover pagare. In una situazione del genere, quanto margine di vita potrebbe ancora avere il commercio locale qui a Civitavecchia? Un dato importante va anche considerato questo nell'ambito del discorso crisi che ovviamente essendo di livello nazionale e internazionale dimostra le sue ricadute anche in Civitavecchia il fatto che Civitavecchia ha anche una pesantissima disoccupazione, un tasso decisamente elevato per quanto riguarda la disoccupazione soprattutto se teniamo in considerazione il numero di casse integrati che non viene considerato inoccupato ma che purtroppo mi risulta a breve ci sarà la cessione anche del periodo di casse integrazione e quindi si andranno a sommare il numero dei casse integrati a quelli dei già disoccupati. Questo fa ulteriormente evidenziare il fatto che non essendoci disponibilità economica il tessuto cittadino, nel specifico, nel parlo delle medie e piccole imprese che rappresento trova difficoltà nel far quadrare i conti e questo è il motivo per cui, come diceva lei giustamente, molte attività hanno aperto ma anche con la stessa velocità hanno chiuso. Riescono probabilmente a tenere testa alta ancora quelle attività storiche che hanno quindi un percorso sia professionale ma anche di struttura economica più solida e quindi in questo senso probabilmente riescono a far fronte con molte difficoltà ovviamente ma comunque riescono a sopravvivere. Forse il termine giusto è quello. Diciamo che forse riescono a vivere e a sopravvivere di più anche le attività a conduzione familiare che sono proprietarie dei negozi stessi? Assolutamente sì perché ovviamente fra le spese fisse che sono quelle che poi incidono maggiormente in un bilancio di un'attività medio piccola, le spese di gestione, quindi il personale così come i costi dell'affitto nel caso in cui si sia in allocazione rappresentano delle spese importanti laddove questi negozi storici, queste famiglie lavorano in proprio e quindi riducono al minimo i costi stessi hanno maggiore facilità di sopravvivenza ma parliamo di sopravvivenza non parliamo certo di fare utili importanti che sostanzialmente sarebbero giusti nel momento in cui si fa impresa ad un certo livello. Ecco, proprio su questo argomento se la regia è pronta e manda il filmato, poco tempo fa, diciamo di qualche giorno fa è stato anche il rappresentante del delegato della Confcommercio Tullio Nunzi che ha dato qualche dato festività all'insegna del risparmio, le famiglie spenderanno circa 1500 euro, lo 0,5% e meno rispetto allo scorso anno. Vediamo. Il Natale è ormai alle porte, ma secondo il delegato nazionale della Confcommercio Tullio Nunzi quest'anno sarà ristretto e ispirato soprattutto alla prudenza. Secondo i dati elencati da Nunzi, infatti, per regali e cenoni le famiglie civita vecchiesi spenderanno circa 1555 euro somma inferiore rispetto all'anno passato dello 0,5% e per la prima volta si avrà una diminuzione di regali tecnologici. Un Natale dimesso, quindi. Pochi ricavi natalizi insieme ai saldi costituiscono una parte rilevante delle entrate del settore, ha spiegato Nunzi, una particolare attenzione andrebbe data a eventi in grado di attirare un maggior numero di persone, al rafforzamento dei trasporti pubblici e ai parcheggi da rendere gratuiti durante le giornate più caotiche. Ad oggi, aggiunto, lengo di mercatini che mi auguro limitati e non in concorrenza con negozi tradizionali e ambulantato, settori che vivono una crisi tragica per i consumi. Apprendo altresì che buona parte degli ambulanti di piazza Regina Margherita non sarebbero ancora a conoscenza del progetto definitivo riguardante la ristrutturazione del mercato. Mi sembra una notizia assai incredibile. Io credo nei rapporti condivisi tra amministrazione e imprenditori, ha concluso Nunzi, ma credo pure che se si vogliono tali rapporti, bisognerebbe parlare con le persone che li rappresentano, elemento basilare di un sistema democratico che tenga lo sviluppo. Abbiamo sentito dalla nostra collaboratrice le dichiarazioni di Tullio Nunzi, che tra l'altro pone anche un altro problema al centro, i cosiddetti mercatini natalizi che vanno in conflitto di interessi con i locali commerciali propri qui a Civitavecchia. C'è un qualche contrasto fra i due, magari i cittadini preferiscono spendere di più al mercatino anziché nel negozio perché riescono a risparmiare qualche euro in più o comunque anche i mercatini sono in crisi? Allora, io credo che il problema sia di equità anche in questo senso. Non vogliamo innescare né io con un intervento che ho fatto a mezzo carta stampata qualche settimana fa e credo anche il dottor Nunzi con questo suo intervento, innescare appunto la guerra tra poveri e cioè innescare la guerra tra la sede fissa e l'ambulantato. Però è chiaro che un po' di amor proprio nei confronti della nostra città e quindi degli operatori che vivono e pagano le tasse in questa città bisogna pure averlo. Il discorso del mercatino ha origini un po' diverse, un po' profonde, nel senso che purtroppo abbiamo vissuto in questa città e per diversi anni la presenza di mercatini che purtroppo sono andati al di là di quelle che erano a nostro giudizio le autorizzazioni per le quali il mercatino stesso aveva origine e ragion d'essere. Mi riferisco al fatto che, vado a memoria, ma il bando con il quale era stato autorizzato il mercatino parlava di un mercatino di qualità, di antiquariato e di oggettistica etnica. In realtà chiunque è stato al viale, per fare un esempio, piuttosto che Piazza Fratti e la zona del Ghetto che sono le zone più battute da questi mercatini, ha potuto riscontrare la presenza di bancarelle di ogni genere e tipo. Alla luce di alcune altre notizie emerse dalla stampa abbiamo anche appreso che la società che aveva in gestione vinto il banto e quindi aveva in gestione le aree per questi mercatini sembrerebbe non averne anche pagato l'occupazione del suolo pubblico in tutto, in parte adesso non so bene i dati, ma insomma mi sembra che l'azione dell'assessore nel fermare questi mercatini sia stata proprio dettata da questa esigenza. Quindi voglio dire, è chiaro che si mette in concorrenza in modo sleale chi ha delle spese come dicevamo prima fisse con le attività a sede fisse ma anche gli ambulanti stessi che avranno in città e che quindi pagano l'occupazione del suolo pubblico in un certo modo, sono strutturati in un certo modo, li si mette in concorrenza con chi viene e che probabilmente usufruisce anche di agevolazioni che l'ambulante locale non ha e così come chi è a sede fissa non ha. Però i mercatini di cui stava parlando lei, quelli che la Eurocreation si sostiene abbia pagato soltanto due bollettini ancora è tutto in fase di accertamento e proprio per questo motivo l'assessore Maruccio ha deciso di revocare il bando sono tutt'altra cosa rispetto ai mercatini natalizi per cui l'assessorato e l'amministrazione comunale hanno indetto un nuovo bando per dare vita a questi mercati che comunque hanno anche una durata limitata. Questi mercatini in che modo potrebbero entrare in conflitto in un periodo così tragico diciamo per la situazione economica di tutto il paese? Cioè ci sono dei seri rischi o comunque si vendono dei prodotti completamente diversi che al mercatino possono essere comprati in realtà al negozio non si trovano nemmeno e viceversa. Quindi sono due modi di affrontare i regali di Natale in maniera diversa? Allora se la viviamo in questo modo io sono il primo ad essere d'accordo e credo anche di interpretare le parole del dottor Nuzzi quando dice non sovrapponiamo categorie merceologiche che viviamo già nelle attività a sede fissa. E quindi se il mercatino rappresenta un'alternativa può essere anche il valore aggiunto che noi andiamo predichando da tempo per avere una forma di attrazione in più nei confronti dei paesi limitrofi. Non ci dimentichiamo che Cidecchia è una delle città più importanti nel comprensorio per termini di abitanti e per termini di popolazione quindi per capacità anche produttive. Però è anche altrettanto vero che se noi attraiamo l'infa vitale nuova quindi facciamo venire gente nuova a Civitavecchia aumentiamo il potere di spesa che ricade in questa città. E questo lo otteniamo facendo un mercatino di qualità con delle caratteristiche anche di merce diversa rispetto a quelle che andiamo a trovare invece che possiamo trovare invece nelle attività già esistenti in città. Se invece come è stato per i vecchi mercatini non facciamo altro che creare una sovrapposizione di tipologie merceologiche dall'abbigliamento all'oggettistica alle altre cose che erano ben in mostra nei mercatini è chiaro che creiamo un eccesso secondo me di proposta e questa proposta non va altro che a danneggiare quella che è già esistente come proposta sul territorio. Quindi non è un discorso di concorrenza leale diventa un discorso di concorrenza probabilmente sleale anche perché se poi ci sono delle ripercussioni economiche è chiaro che avendo meno spese riesco ad avere anche dei prezzi più bassi ma questo mette poi ulteriormente in crisi quello che è il discorso del tessuto produttivo e commerciale della città. Quindi io direi mercatini sì e l'ho già scritto anche nel riferimento al bando che l'assessore aveva pubblicato mi raccomando che il bando venga poi rispettato e quindi ci sia chi vigili a che ciò sia fatto. Un'ultima battuta prima di passare a un altro aspetto perché parliamo comunque di mercatini, spese di Natale però dobbiamo affrontare anche l'argomento dal punto di vista di chi percepisce una pensione e quindi magari si trova a dover risparmiare. Per quanto riguarda i saldi, perché Tullio Nunzi in un passaggio parlava anche dei saldi. Secondo lei potrebbe essere un periodo propizio per il commercio locale o anche lì potremmo avere una piccola recessione e quindi minor liquidità da parte della cittadinanza? Io credo che un primo problema sia quello di risolvere questo clima di incertezza e cioè il fatto di non sapere, come dicevo prima, cosa probabilmente ci aspetterà da qui ai prossimi mesi come cittadini italiani e quindi come soggetti deputati a pagare le tasse che in base alla manovra aumenteranno e di questo ne siamo consapevoli tutti ma ancora non si è percepito bene dove, come e quando finché ci sarà questo clima di incertezza io credo che la gente sarà, anche perché è proprio nell'indole del popolo italiano, essere un popolo di risparmiatori, ci sarà la tendenza prudenziale anche in modo corretto credo a non spendere o quantomeno a spendere il meno possibile proprio per trovarsi un po' più pronti nei confronti di quelle che saranno le vere risultanze della manovra finanziaria perché oggi si parla di manovra finanziaria ma gli effetti sostanzialmente se togliamo il caro benzina che già si è verificato poi sostanzialmente non sono ancora entrate nel vivo le condizioni dei punti della manovra quindi sicuramente questo clima di incertezza non fa bene a nessuno, non fa bene in modo particolare per l'economia e quindi per le piccole e medie imprese. Dall'altra è anche vero che comunque aspettandosi una manovra che sarà pesante, io credo che i saldi rappresenteranno lo stesso seppure un momento di boccata d'ossigeno comunque mi auguro di no ma presumo che avranno dei numeri, faranno dei numeri sicuramente più bassi rispetto a quelli già purtroppo bassi degli anni precedenti. Una manovra finanziaria che meno male sappiamo che cosa contiene al suo interno, un documento che dovrebbe essere approvato in questi giorni se non tra questa sera e domani anche, che prevede di tutto dall'aumento all'accisa sulla benzina, all'iva, all'introduzione nuovamente della tassa sulla prima casa e anche a una riforma delle pensioni. Un punto questo che ha fatto molto discutere non soltanto i sindacati ma anche la popolazione che in questi giorni è scesa in piazza, ha dichiarato di volersi operare fino a quando il governo non ascolterà le proprie ragioni e cercando di trovare un punto d'accordo. Questo punto d'accordo si è trovato? Fino a questo momento no, assolutamente no. Oggi è stato dichiarato, lo sciopero che è stato dichiarato giorni fa è stato confermato proprio perché nell'incontro di ieri sera con il governo le organizzazioni sindacali non hanno avuto la sicurezza che qualche cosa potesse cambiare. Anzi c'è stato chi tra le organizzazioni sindacali ma diciamo che all'unisono hanno detto che non c'era speranza appunto di che questo potesse avvenire. Stiamo parlando comunque di una manovra che è abbastanza pesante in alcuni aspetti e poi la pesantezza che va a rigadere soltanto e soprattutto su una parte della popolazione che è quella più debole, quella più indifesa. mi riferisco soprattutto al problema dei pensionati. Io credo che questa manovra rispetto a quelle tre parole che aveva detto il Presidente Monti ne rispetti soltanto una. Noi dobbiamo ricordare che Monti quando appena insediato ha detto che avrebbe fatto una manovra per cui era stato chiamato al governo che doveva avere questi connotati, il rigore, l'equità e la crescita. Ebbene noi come organizzazioni sindacali abbiamo trovato in questa manovra soltanto uno di questi tre aspetti, il rigore. Ebbene con il rigore non si va da nessuna parte soprattutto perché quando si incide sulle classi meno ambienti è ovvio che la prima cosa che esce fuori è questa diciamo questa ribellione insomma, non che viene perché quando non c'è equità in un momento in cui attenzione diciamo tutti che c'è la crisi, poi la CGL e il sindacato lo sta dicendo da più di tre anni erano altri che dicevano che la crisi non c'era, anzi non nascondevano, dicevano che il nostro era un paese ricco e non aveva problemi da questo punto di vista. Però abbiamo anche detto che quando crisi c'è bisogna che chi ha dato sempre sia messo un attimino da parte, non venga continuamente tartassato e chi lo ha fatto poco o chi ha di più nei momenti di crisi, nei momenti di bisogno, più deve dare. Questo non c'è assolutamente in questa manovra ma dobbiamo dire che questa è l'ultima manovra ma noi vediamo di altre due manovre di questa estate dal precedente governo che anche queste non sono state uno scherzo per le persone appunto che sono le più deboli, le più esposte. Anche perché se non ricordo male nelle scorse manovre si era già portata qualche modifica al capitolo pensioni. Esattamente, si era innalzata l'età pensionabile, si era di fatto già allungata gli anni di lavoro perché nel momento in cui uno raggiungeva i 40 anni di anzianità doveva aspettare un anno e poi ancora un mese per poter andare in pensione, quindi doveva lavorare ancora di più. Però questa manovra lo ha codificato anche cambiando l'espressione della parola stessa. Ora in effetti le pensioni di anzianità non esistono più. La pensione di anzianità viene chiamata pensione anticipata e quindi anche nell'espressione si cambiano i termini, però il risultato poi non cambia, in effetti si allunga la vita lavorativa e quando si fanno queste cose senza tener conto delle sfaccettature che noi abbiamo, non è la stessa cosa, lo diceva oggi nell'intervento che ha fatto la Camusso al lato della manifestazione del presidio che c'è stato oggi a Montecitorio. Come si può pensare che una infermiera possa lavorare fino a 70 anni, magari un'infermiera che sta in un reparto di chirurgia e deve assistere il medico in un'operazione. Immaginiamo quale può essere la sofferenza e dell'infermiera ma anche del paziente che vede intorno a sé una persona che ormai non ha più, a 70 anni anche se la vita è allungata, si allunga la lucidità per poter fare degli interventi così delicati. Per cui nel momento in cui c'è la scure e non guarda in faccia a nessuno è ovvio che all'interno dell'iniquità c'è anche tanta approssimazione. Per cui queste sofferenze che noi abbiamo cercato di rappresentare al governo nell'incontro di ieri sono state tutte disattese. Noi ci rendiamo conto, lo abbiamo sempre detto, questa è una crisi che ha bisogno di un intervento straordinario, però abbiamo anche detto che questo Paese non ha speranza, se non si dà speranza ai giovani, non si può contrabbandare il discorso delle pensioni come un discorso per dare un futuro ai giovani, non è così, perché questa riforma delle pensioni attacca soltanto quelli che adesso sono prossimi a pensione e che devono continuare a lavorare senza dare nessuna risposta ai giovani che domani andranno in pensione, non esiste proprio un discorso di questo genere. E in più si crea una depressione, lo diceva anche Palombo, nel senso che è un'incertezza che crea anche degli altri disagi nel mercato, nel movimento delle poche risorse che ci sono a disposizione per lavoratori e pensionati. Ecco, in tutto questo quadro poi ci sono delle aggravanti, perché non è soltanto il problema delle pensioni. Legato al discorso delle pensioni noi immaginiamo, e pare che c'è stato un accenno, che proprio su questo territorio, proprio per effetto di alcune dismissioni che ci sono state dal punto di vista lavorativo. Mi riferisco per esempio al cantiere più grande d'Europa che c'è stato fino a ieri, a Torre Valvalica Nord, per la riconversione a carbone della centrale. Al momento attuale noi abbiamo centinaia di cassa integrati e lavoratori in mobilità che alla fine di quest'anno non avranno più la cassa integrazione e non si sa che fine faranno dopo la mobilità, con queste normative nuove sul prepensionamento. Quindi diciamo che c'è in generale un impoverimento, ma in particolare in questo territorio c'è un impoverimento, perché abbiamo queste situazioni che noi viviamo con drammaticità. E allora che fare? Ecco, noi per quanto ci riguarda abbiamo un po' le idee chiare, perché siamo anche d'accordo sul fatto che questa manovra sa da fare e sul fatto che questa manovra debba avere questi connotati. Però noi vogliamo più equità e vogliamo che sia più equilibrata. Abbiamo anche suggerito come fare, perché quando ci si chiede che bisogna trovare le risorse per poterle spostare da una parte all'altra, abbiamo anche suggerito come fare. Cioè quel discorso del saldo zero di questa manovra, non significa altro che questo. Se sono una manovra da 20 miliardi, 20 miliardi deve rimanere, però quando ci si dice che il saldo deve essere zero e l'impianto della manovra non può essere toccato, noi possiamo mettere in campo tutti gli accorgimenti possibili, immaginabili, se l'impianto è quello. Le pensioni saranno una punizione e per il resto, per quanto riguarda il discorso dell'equità e della crescita e dello sviluppo, nemmeno l'ombra. Ecco, proprio per questo noi credo che andremo avanti fino a che non avremo delle risposte. Non a caso abbiamo una serie di presidi già, addirittura fino al 17. Alcuni a Montecitorio, perché a Montecitorio? Perché a Montecitorio dovrebbero decidere su questa manovra. Non so se domani o dopodomani lo faranno, perché mi risulta che ci sono ancora dei contatti, degli abboccamenti, richiesti anche dall'organizzazione sindacale a tutti i partiti che fanno parte della maggioranza e ancora stanno dentro questo Parlamento per vedere se si può trovare quantomeno una soluzione ai problemi che il sindacato ha sollevato. Altra strada sarebbe, credo, non auspicabile quella di dire che siccome questa manovra va da passare allora ci sarà la richiesta della fiducia. Questo governo sappiamo come è nato, però non può essere considerato soltanto un governo tecnico. Questo è un governo politico perché poi le decisioni che questo governo prende saranno poi ratificate da quel Parlamento che è quel Parlamento che ancora esiste, che esisteva prima e che c'è adesso. Quindi diciamo che la questione è abbastanza complicata. Se devo dare un parere mio, e io non ho molta fiducia rispetto alle novità che possono uscire fuori. Senza pensare che questa manovra rispetto agli obiettivi che si è posta non li avrà, non li raggiungerà. Quindi la preoccupazione ancora maggiore è che rispetto a questa manovra ci dovrà essere un'altra manovra aggiuntiva. Mi riferisco al fatto che per esempio già si sta parlando al mercato del lavoro, quello che succederà, adesso non voglio mettere in mezzo il discorso dell'articolo 18, ma comunque poi è questo il problema che avremo di fronte, perché è insufficiente insomma. Scusi se la interrompo, ci fermiamo soltanto qualche minuto, diamo spazio alla pubblicità, torniamo fra qualche minuto.